Tu, reggere Imperio Populos, Romane Memento, e chiedo scusa ai classicisti se non leggo il maestro, ma lo capirete tra poco. Tu, Romano, ricordati che devi governare i popoli con l'imperium, il comando, il tuo governo. Etibisunt artes, queste sono le tue arti, questo devi fare. Pacicque imponere morem, imporre una norma, un costume, un'abitudine alla pace. Pensate, imponere morem paci. La parola pace è la parola imposizione messa insieme. Parcere subiectis, et debellare superbos. Parole che abbiamo sentito spesso. Avere pietà dei sottomessi e sgominare, sconfiggere i tracotanti, i superbi. Qualche tempo fa qualcuno si chiedeva quante volte noi pensiamo all'impero romano. Qualcuno ancora se lo ricorda, fu un tormentone che occupò i social un po' di tempo fa. Beh, ecco, diciamo che non ci importa quanto tempo ciascuno di noi, o personaggi famosi, pensano all'impero romano. A me interessa una cosa. Normalmente, quando noi pensiamo all'impero romano, noi pensiamo a questa frase. A questo parcere subiectis et debellare superbos. Al etibis untartes. Pensiamo a questa frase famosissima che il vecchio Anchise dice al figlio Enea quando Enea va a trovarlo nei campi Elisi, nell'aldilà. Ed è Virgilio, nell'Eneide, a rappresentarci questa scena. E affida alla saggezza del vecchio padre queste parole, parole che sono la sintesi la sintesi di quello che i romani credevano fosse la loro missione di civiltà. Una missione di civiltà che ritenevano di avere avuto direttamente dagli dèi. Quindi, che cos'è l'impero romano? L'impero romano lo immaginiamo come quel colosso che regge i popoli strettamente nel suo comando e che ha questo come sua arte, come sua abitudine che addirittura dà una norma alla pace che ha pietà dei sottomessi e che non risparmia invece i tracotanti. Quindi, l'impero romano è l'impero che governa tutti i popoli e che stabilisce un ordine tra tutti i popoli. Quale ordine? Il suo. Virgilio era convinto e ne erano convinti anche molti altri. Per esempio, subito dopo di lui, troviamo un altro autore Plinio il Vecchio quest'ultimo autore di un'opera mastodontica la storia naturale la naturalis istoria che si occupa un trattato scientifico che si occupa di tanti argomenti a un certo punto Plinio il Vecchio si trova a dover tessere le lodi dell'Italia ma per Plinio tessere le lodi dell'Italia significa tessere le lodi di Roma non Roma città dell'impero romano e cosa ci dice? Ci dice che questa terra cioè Roma è figlia e madre parliamo di viceversa di tutte le terre ed è una terra scelta dagli dei per rendere il cielo più splendente per unificare imperi diversi per rendere più dolci i costumi di chi? degli imperi dispersi per fare in modo che la sua lingua la lingua latina diffondendosi faccia parlare tra loro le lingue degli altri le lingue dei barbari le lingue dei tanti popoli ecco che la lingua latina diventa un elemento di unificazione ed esso stesso un elemento chiave di questa missione di civilizzazione dei popoli e del mondo conclude Plinio Roma è stata scelta per dare all'uomo l'umanità e per diventare lei sola la patria di tutte le genti nel mondo intero quindi per Plinio o per Virgilio vi potrei citare tanti altri esempi non voglio tediarvi Roma è un faro di civiltà Roma è la civiltà la civiltà stessa quella che noi scriveremmo con la C maiuscola e Roma credeva in questa missione civilizzatrice e un po' anche i secoli successivi hanno creduto nella missione civilizzatrice di Roma possiamo dire un po' anche noi crediamo nella missione civilizzatrice che Roma ha avuto io ricordo il titolo di un libro praticamente recente qualcuno ha parlato di noi quando noi eravamo padroni del mondo vi ricordate si riferiva proprio all'impero romano e allora Roma ha questa missione la missione di rendere tutti i popoli soggetti al suo dominio dominio che diventa esso stesso espressione di civiltà in una specie di riduzio ad unum direbbero i classicisti di riduzione ad una sola entità che è essa stessa la civiltà di Roma questo sarebbe l'assunto che giungerebbe dai nostri dalle nostre fonti perlomeno da quelle più famose che abbiamo scelto ma è proprio così? Vediamo cosa accade ad un ambasciatore nel 449 d.C. Nel 449 d.C. l'impero romano non era più impero romano era impero romano d'Oriente e Roma non era più Roma la città del Lazio era la Nea Roma la nuova Roma era Costantinopoli sul Bosforo questo ambasciatore di cui voglio parlarvi è anche uno storico un cronista uno che ha raccontato in prima persona le vicende che ha vissuto e di che cosa si tratta? Si tratta di un'ambasceria che questo personaggio ha condotto insieme ad altri suoi colleghi nell'impero degli Unni direttamente dal famoso Attila che qui vediamo in un calco di età rinascimentale come famoso flagello di Dio non vi ho voluto proporre la famosa foto del film di Diego Abbatantuono considerando anche la vostra età media e questo nostro ambasciatore si reca con i suoi colleghi nell'impero degli Unni il suo nome il suo nome è Prisco Prisco di Pagnon che ha ricevuto questa questa missione insieme ad altri e allora Prisco con gli altri ambasciatori si avventura in queste terre terre che già danno l'impressione di essere strane un po' misteriose dove anche le leggi dell'astronomia a un certo punto sembrano essere sovvertite sapete perché? perché gli ambasciatori camminano 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 e hanno l'impressione di andare verso ovest e invece stanno andando ad est sono disorientati perché? semplicemente perché non conoscono quei posti perché non sono i luoghi a loro familiari eppure nonostante questa sensazione di iniziale straniamento questa ambasceria procede in maniera potremmo dire quasi arrogante spavaldi perché effettivamente gli ambasciatori che Prisco descriva è lui stesso si sentono tutti presi di questa loro missione di civilizzatori sono loro i romani gli altri sono chi? gli altri sono i barbari sono i diversi quelli che devono essere civilizzati procedono in maniera spavalda in maniera arrogante tant'è vero che a un certo punto c'è anche un episodio direi un po' spiacevole perché? perché questi ambasciatori si recano da un notabile locale da un nuno che aveva un nome un po' terribile ed econe sono invitati a pranzo sono trattati con tutti gli onori e arriva il momento del brindisi e nel momento del brindisi ciascuno brinda al proprio re al proprio imperatore al proprio capo per cui è chiaro che gli uni brindano ad Attila mentre i romani brindano all'imperatore e qui accade che uno dei componenti della dell'ambasceria un tale vigilas un interprete fa una battuta un po' brutta perché nel momento del brindisi per commentare il brindisi dice ma non si può paragonare un uomo a un dio Attila era l'uomo Dio era l'imperatore Teodosio non si fa e maglie l'incolse perché perché poi quando gli ambasciatori andarono da Attila Attila aveva saputo perfettamente per filo e per segno quello che era successo è diversamente dal suo costume Attila definito flaggello di Dio ma in realtà era un capo che sapeva ben trattare gli altri Attila non lo tratta bene lo tratta molto severamente molto duramente perché aveva saputo dell'episodio ma devo dire anche perché questo questo vigilas che forse non era stato un buon acquisto nell'ambasceria romana aveva detto un sacco di bugie aveva riferito dati del tutto inattendibili sul numero dei delatori per esempio insomma i romani non si presentavano tanto bene ma il meglio deve ancora arrivare perché perché a un certo punto il nostro cronismo protagonista di questa di questa piccola storia Prisco Prisco di Pagnon ebbe l'incarico di andare personalmente da un altro notabile questo ancora più importante addirittura era l'uno più importante dopo Attila aveva nome Onegesio e allora Prisco andò a casa sua stava attendendo di essere ricevuto di essere annunciato prima ancora di essere ricevuto era lì sull'uscio della porta e vide passare un barbaro uno del posto e questo questo barbaro lo guarda e gli dice caire salve in greco Prisco rimane stupito ma come un barbaro che parla greco ma non è possibile i barbari non parlano la lingua greca al massimo se proprio hanno avuto rapporti con i romani parlano la lingua dei goti parlano la lingua degli ausoni non può essere non può un barbaro parlare greco non è possibile a meno che è un prigioniero greco uno di quelli tratti dalla traccia o dalle coste dell'illirico ma questa ipotesi non lo convinceva non poteva essere perché non poteva essere perché i prigionieri hanno abiti logori sono trasandati e invece quell'uomo aveva un aspetto elegante era raffinato e allora Prisco incuriosito gli chiese chi fosse da dove venisse perché certamente non poteva essere greco e il barbaro gli chiese perché volesse saperlo perché hai parlato greco mi disse Prisco e allora il barbaro gli spiegò tutto sì era greco era però un greco di nascita era di professione commerciante e a un certo punto era giunto qui nella città di Viminacium nell'attuale Serbia sulle coste del Danubio qui aveva sposato una donna ricchissima era rimasto qui per molto tempo era successo però che gli unni avevano conquistato la città di Viminacium e quindi lo avevano fatto prigioniero e tra gli unni vigeva una specie di norma non scritta secondo la quale i più ricchi diventavano schiavi dei notabili più importanti per cui questo questo barbaro era diventato schiavo proprio di Onegessio cioè la persona a cui Prisco doveva andare a portare a portare i doni e quindi il barbaro raccontava di essere stato suo schiavo di aver anche combattuto con gli unni contro i romani di essersi comportato anche bene in guerra e addirittura a un certo punto di aver ceduto il proprio bottino al padrone Onegessio il quale lo aveva ricompensato dandogli la libertà pensate un po' e quindi il nostro barbaro aveva voluto continuare a rimanere a Viminacium aveva sposato una donna barbara aveva avuto dei figli e quindi era rimasto lì e diceva ma perché qui io sto bene perché allora la sua situazione era di gran lunga migliore rispetto a quella di un tempo il barbaro spiega anche perché perché racconta tra i barbari si vive bene terminata la guerra ciascuno si accontenta di quello che ha nessuno molesta e nessuno è molestato è diverso da voi romani io lo so che da voi la situazione è diversa perché? perché da voi romani voi morite in guerra i romani muoiono in guerra perché affidano la loro vita nelle mani di altre persone perché il più delle volte patiscono le conseguenze di generali che non sanno gestire la guerra e in pace in pace è anche peggio disse il barbaro in pace è peggio perché perché a Roma le leggi non sono uguali per tutti perché se sei ricco allora puoi farla franca se sei povero vieni condannato e spesso non vedi neanche il momento della condanna perché muori prima in quanto i tribunali vanno per le lunghe immaginate la faccia di Prisco no? Prisco rimase sterefatto no? quel barbaro non poteva dire quelle cose non poteva parlare così e dirle a lui doveva dargli diritto di replica doveva permettergli di difendere i valori della civiltà romana e allora Prisco intraprese questa specie di competizione di difesa dei valori della civiltà romana e disse i nostri padri hanno fondato una costituzione bellissima dove soltanto la giustizia e la legge sono fondamentali per cui ci sono i custodi della legge poi ci sono altri che hanno ricevuto le armi e quindi vanno in guerra altri ancora coltivano i campi per quelli anche per quelli che vanno in guerra e poi ci sono gli avvocati e poi ci sono i giudici ed è vero che queste persone vengono pagate quindi è vero che a Roma il denaro la farà padrone ma scusate non si deve pagare chi ci fa un chi ci da ci presta la sua la sua professionalità non dobbiamo ricompensarlo e poi c'è la questione dei processi sì è vero a Roma i processi durano per per le lunghe ma perché c'è la certezza del diritto no? perché perché i romani vogliono essere sicuri ecco Prisco difese la civiltà romana ma evidentemente non fu convincente e sapete perché? perché le sue parole il barbaro si mise a piangere la legge di Roma è bella la costituzione di Roma è bellissima ma i romani non erano quelli che Prisco diceva che fossero e i romani non erano quelli che i patres che gli antichi romani volevano che diventassero e allora la conclusione di questo racconto anche a me personalmente è venuto un dubbio è proprio vero che i civili romani sono sempre civili e altresì è vero che i barbari erano sempre barbari oppure a volte gli uni potevano essere gli altri o come diciamo qui viceversa grazie grazie grazie